Attenzione alle truffe. A rilanciare ancora una volta l'appello è la polizia di stato che proprio nei giorni scorsi ha fermato due uomini che raggiravano gli anziani col vecchio metodo dallo specchietto retrovisore rotto. Il fastidioso fenomeno delle truffe agli anziani continua da diverso tempo ad essere presente anche nel territorio della provincia di Lecco, spiega la polizia. Si tratta in particolare di soggetti senza scrupoli che telefonicamente tentano di raggirare le loro vittime ignare, in particolare anziane, presentandosi come sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine. I malfattori raccontano come un parente, generalmente il figlio, si è stato coinvolto in un incidente stradale e per risolvere le varie situazioni burocratiche e per non incorrere in conseguenze anche di carattere penale propongono di chiudere bonariamente il sinistro tramite la consegna di denaro contante e preziosi. Si tratta evidentemente di truffe, avvisano gli agenti, come capita anche nel caso di malfattori che cercano di raggirare alcune vittime con la scusa di un falso incidente automobilistico in molti casi tentando di estorcere denaro. I malviventi sono in possesso di materiale solitamente usato per lasciare i segni sulla vettura al fine di insegnare un finto incidente. Inoltre i soggetti si presentano con il volto truccato per essere meno riconoscibili. Sostanzialmente le vittime, di solito ultra settantenni, sono avvicinate dai malfattori mentre sono alla guida delle proprie vetture e improvvisamente vengono fermate dai truffatori che lamentano di essere stati urtati dall'inconsapevole utente della strada. Quindi distraendo la vittima riportano dei segni sulla loro vettura fingendo di essere stati appena urtati. Le vittime, intimidite dai toni aggressivi dei truffatori, consegnano tutti i soldi che hanno con loro. I criminali non contenti costringono inoltre gli anziani con la minaccia di gravi conseguenze giuridiche a farsi dare altro denaro facendolo prelevare al banco ma più vicino. La campagna di sensibilizzazione delle forze di pulizia ha permesso a molte potenziali vittime di accorgersi in tempo utile del tentativo di truffa in atto ma non bisogna abbassare la guardia. Con l'occasione la questura di Lecco sensibilizza la cittadinanza e gli automobilisti a non cedere mai denaro in caso di richieste telefoniche afferenti incidenti occorsi a propri congiunti ovvero in caso di sinistra stradale e qualora la controparte diventi aggressiva o minacciosa si raccomanda di contattare immediatamente le forze di pulizia attraverso il numero di emergenza 112.